A Verona la prima giornata del congresso mondiale della famiglia, appuntamento che ha suscitato molte polemiche e sono previsti anche contro manifestazioni. Ora sentiamo da Matteo Mororovicic la cronaca di questa mattinata. Il primo a salire sul palco è stato lo statunitense Brian Brown, presidente dell'organizzazione internazionale a cui l'evento fa capo. Con lui a Verona si è aperto il tredicesimo congresso mondiale delle famiglie, una tre giorni che ha scatenato un putiferio di polemiche. Il congresso raduna personalità del mondo ortodosso russo, del conservatorismo evangelico americano, dell'ultra tradizionalismo cattolico, tutti a sostenere la famiglia composta da un uomo e una donna e le istanze del movimento Pro Vita. Mille partecipanti al giorno, dicono gli organizzatori, a cui faranno da contraltare i 20.000 attesi per domani pomeriggio al corteo organizzato da non una di meno, che ritaccia il congresso di omofobia, posizioni antiaborto e discriminatorie nei confronti della donna. Il clima in città è teso, dal palco fin da oggi sono state lanciate le parole d'ordine. Il presidente Antonio Brandi ha citato gli studi del messicano Fernando Piego Carrasco. Nella famiglia composta da padre, madre e bambini risulta molto meno violenza contro le donne e i bambini, salute fisica migliore, redditi più alti. C'è chi contesta questi studi e punta il dito anche sulla volontà di alcuni partecipanti di scardinare la legge 194 sull'aborto. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha concesso il patrocinio della regione, nega che ci sia questo tentativo e dice che per primo denuncerà eventuali derive. Il tema dell'omofobia è una patologia, cioè l'omofobia è una patologia.